Tutti benessere un invito per i quattro anni nel quale si guarda anche al futuro. Cesena sta per chiudere e concluderà questa sera la sua stagione. Riaprirà tra una ventina di giorni l'ippodromo di Bologna con il Gran Premio Continentale come clou di seconda metà di stagione. Questa è una corsa propedeutica al Gran Premio Continentale. Ci sono quattro anni di ottimo livello alla via. È ritirato l'otto di Colibri Jet. Rimangono così in sette che vanno in questo momento agli ordini dello starter il quale aziona i lampeggianti, suona la campana e mette in moto l'autostarter. Sette dietro la macchina, sei in prima fila, uno in seconda con il numero uno Karim Tommaso Gambino con il numero due Chanel dei Veltri, Enrico Obellei, al tre Carosio Light, Francesco Pettinari, quattro Cobalto di No, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, cinque Catullo Jet, Roberto Vecchione, sei Candido Jet, Natale Cintura in seconda fila, sette Chopin, Gar, Giampaolo, Minucci. L'allenamento va a completarsi lungo la piegata di destra, fase molto importante quella di avvio per questo doppio chilometro. Partono discosti dall'ala al cinque e il sei e allo stacco è Cobalto di No, il più veloce, ma trova al suo interno Karosio Light, il quale fa il gioco di Chanel dei Veltri, la quale scavalca Karim e si installa il comando all'imbocco della prima curva. Di fuori subito Karosio Light che preme, Cobalto di No che cerca posto allo steccato avanti a Karim e lo trova. Sono in attesa degli eventi più attesi. Intanto lo strappo iniziale segna 14 con Karosio Light che insiste ma sbaglia e così rimane al comando Chanel dei Veltri. Numero 3, Karosio Light. E con fronti di Cobalto di No che si presenta a chiedere strada su Chanel dei Veltri, Enrico Bellè scuote la testa. A questo punto vuole restare davanti, non vuole dar via libera a Cobalto di No, c'è 28,6 per il primo quarto di gara. Chanel dei Veltri ha il comando, Cobalto di No che l'attacca all'esterno, poi Catullo Jet in terza posizione mentre galoppa anche Karim. La piegata di destra è passata in 15, 43,6. Alla fine Enrico Bellè decide che forse è meglio non esagerare troppo e lascia sfilare seppur non con troppa voglia Cobalto di No. I primi 800 metri se ne vanno in 58,5, 14,9 la retta di là. Con in vantaggio Cobalto di No, di fuori Catullo Jet che si trascina a Chopin Gar. Quindi ancora Chanel dei Veltri alla retroguardia chiude Candido Jet. Il primo chilometro se ne va sul mio cronometro in poco meno di 1,13,5. Cobalto di No è in vantaggio, gli vengono ora tolti i tappi per respingere all'esterno Catullo Jet che continua a viaggiare bello agganciato alle guide, 15 davanti alle tribune, 1,28,2. I primi 1200 metri di corsa Catullo Jet che guarda dall'alto in basso Cobalto di No attendendo gli altri. Quando siamo ormai a 600 dalla conclusione Catullo che si sbarazza dell'avversario 15,3 questa frazione e Catullo inizia a pedalare seguito da Chanel dei Veltri. Quindi ancora Candido Jet e Chopin Gar alla retroguardia. Quando siamo sulla dritta opposta alle tribune Catullo che prosegue da leader, 1,58,1 i primi 1,6. Catullo Jet in vantaggio, Chanel dei Veltri che prova a tenerne il contatto. Poi Candido Jet che si esibisce in un gran bel arrivo. La piegata conclusiva passata dal leader con un'altra frazione svelta in 14,3. Se ne è andato da Chanel dei Veltri. Fa dispersione Catullo Jet che dà a vedere un'altra volta di essere un cavallo davvero importante. Questo figlio di Marajà al secondo posto è Chanel dei Veltri. Al terzo Candido Jet io 13,7 la retta d'arrivo. 2,26 e 1 sul mio cronometro. Si va intorno all'1,13,2 mila metri. Roberto Vecchione in sediolo per Paolo Romanelli. e gli allevamenti toniati Marajà e perché no Jet la genealogia di colui che fa 11 vittorie in 17 corse in carriera. Catullo Jet e Roberto Vecchione sugli scudi alla nona corsa dal Savio di Cesena. Micol possiamo tornare da te. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS Grazie a tutti.